la giunta marchi vuole riattivare la ferrovia ostapre per farlo servono sei mesi e 15 milioni di euro a dirlo l'assessore ai trasporti claudio ristano interrogato durante il consiglio valle dal suo predecessore aurelio margueret taz sotto la cui regenza la linea è stata chiusa ma la decisione ha puntualizzato margueret taz non è stata della regione ma dirfi l'ex assessore ha incalzato il suo erede con una raffica di domande prestano ha spiegato che il costo annuale stimato per la ripresa è di 1 milione 673 mila euro per otto coppie di corse giornaliere ma l'esatta quantificazione del numero delle corse sarà definita nell'ambito dei confronti con i vari interlocutori alla spesa essendo pendente un contenzioso con trenitalia potrebbe aumentare ulteriori interventi saranno stimati anche alla luce delle valutazioni sulla possibilità dell'allungamento della tratta fino a curmaier le valutazioni sulla riattivazione della tratta riguardano anche la possibilità di riclassificare la tratta nell'ottica di eliminare l'attuale vincolo assiale di 16 tonnellate per proseguire negli interventi non è possibile non partire dagli studi esistenti che impietosamente elencano criticità importanti ha sottolineato aurelio margaret taz le disponibilità in bilancio sono limitate ovviamente noi speriamo in bene nella sua riattivazione si sono svolti a inizio maggio i lavori per il potenziamento tecnologico della campo basso vairano e campo basso cassino i cantieri sono stati operativi dalle 23 e 30 di venerdì 28 aprile alle 3 di lunedì 1 maggio per consentire l'esecuzione dei lavori progettati ed eseguiti da rete ferroviaria italiana la circolazione ferroviaria è stata sospesa tutti i treni sostituiti con autobus speriamo che la regione riparta dal presupposto di ripristinare la linea per termoli aperte il 22 aprile al traffico veicolare le nuove opere sostitutive di tre passaggi a livello eliminati sulla linea ferroviaria alessandria ovada si tratta di due cavalca ferrovia un sottovia e tre rotatorie di collegamento alla viabilità esistente nel territorio del comune di predosa che costituiscono una variante alla strada provinciale n 185 3 chilometri e 200 metri realizzati da rete ferroviaria italiana che migliorano la sicurezza e la regolarità del traffico stradale nonché ferroviario con l'apertura della variante è stato risolto anche il problema del transito dei mezzi pesanti nel centro del paese con evidenti benefici ambientali ed ottimizzato il collegamento tra il nord e il sud del territorio l'investimento complessivo per la realizzazione delle opere è stato di circa 10 milioni di euro finanziati da rete ferroviaria italiana con un contributo degli enti locali di 4,7 milioni di euro regione piemonte 3 milioni provincia di alessandria 1,5 milioni e comune di pridos a 200 mila euro